oppure la cosa c'è lo step diciamo quello successivo che ti insegna ad essere un bravo freestyler collegarti è quello che facciamo tutti noi no a parte legarti ma è riuscire a pensare alle rime da dire mentre stai già rappando faccio freestyle come nelle jam tu ti chiami Greenbound ma all'inizio ti chiamavo Gran capito e da lì legarmi con altre stronzate avanti 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 quello è quello che ti rende un bravo freestyler perché quando ti dicono guarda che devi fare un minuto un minuto e mezzo di freestyler non è che puoi pensartene tutte magari mentre facciamo i quattro quarti tu dici una cosa e io posso pensare a cosa risponderti e da qui si lega un altro trick se ci fate caso tutti i bravi freestyler e questo l'hanno capito nel tempo all'inizio non era così ma noi fumo tra i primi la barra quella killer te la mettono alla quarta te la mettono in chiusura cioè io ti dico quello che ti devo dire quando tocca a te così tu non hai avuto modo di pensare quello che mi devi dire perché te l'ho appena detto e tocca subito a te tu non potevi rispondere quindi dico dico tipo Greenbound con il freeze ti spacco sono qua come Masterchef cracco sai che in questa barra io spacco e lì poi le dico la roba finale esattamente cazzo io che ti stavo ascoltando dico minchia me l'ha detta ora allora quello bravo se ne fotte cioè mentre tu mentre prendo due barre capito no tipo Carlo Cracco ok no e lì penso alle robe da dire no mentre sto già rappando capito no gioco a Wharton ma sti stronzi non li ammazzo li cracco capito robe di questo genere no faccio freestyle e tu rimani suolo ti prendo a ceffoni come Canna Vacciuola capito alla fine l'ho chiusa comunque rispondendo a quello che mi hai detto tu però questo ve ne do minchia comunque io veramente il freestyle proprio io credo sia una delle cose non più difficili però veramente cioè se magari sei in ansia che cazzo ne so non riesci a pensare cioè rischi di fare veramente una gran figura di merda perché nel momento in cui ti trovi in una situazione in cui sei sul palco davanti a un sacco di persone che magari l'altra persona che sta rappando contro di te sta facendo delle rime belle pesanti cioè tu hai ancora la responsabilità di dire se non penso in fretta faccio una figura di merda cioè è bruttissimo però allora ti dico quando c'è l'atmosfera giusta è difficile che non ti venga niente in mente io per esempio ho sempre dato il meglio di me durante i contest però a chi è che non è capitata la serata no anche io ci sono dei video dove magari perdo con uno che non era più bravo di me ma quella era la sua serata io magari l'ho preso male perché la situazione non era quella che volevo il pubblico magari era dalla sua e quindi questo influisce negativamente comunque stiamo parlando di una cosa che è tutta fatta di testa